Se questo cambiamento ti genera eccitamento, ti genera voglia, desiderio, ti accende qualcosa dentro, significa che una parte di te desiderava questo, cercava questo, stiamo le mani e andiamo a chiudere con un po' di automassaggio, pensando dal volto, maestro ci vada piano con automassaggio, sta arrivando gente, salgo dal volto della testa e scendo dal collo di due orecchie e scendo giù per il petto, per le spalle, da entrambe le parti, toccando, massaggiando, attivando bene ogni parte del corpo, le costole, l'addome, i remi, le gambe. Gente è meglio che vi allontanate velocemente, con il maestro la meditazione non si sa mai dove possa finire. Dopodiché andiamo a dare dei colpetti sulla testa e poco a poco andiamo anche qui a scendere, lasciando il corpo. Maestro, mentre i meditali hanno fatto il portafoglio? E ultimo, andiamo come a spazzolare. Andiamo a vedere se Maurizietta ora è più rilassata. Allora, sto insegnando alla mia compagna, che è un avvocato, come digitalizzare l'azienda. L'avvocato travellone. Per quello vi dico, l'unica cosa, sappiate che il Trolls vuole visto come la merda del cane. Cioè, ma voi quando vedete la merda del cane, vi fermate a parlare. Voi ricordano allo stesso livello. E purtroppo faranno brutta fine, perché sono nati come perdenti. E la gelosia è la peggior cosa che possa esistere negli esseri umani. Sì maestro, Maurizietta ultimamente è diventata un po' ripetitiva.